Lo stato di abbandono ormai cronico che vive il Maglio di Vivo di San Marco di Castellabate impone l'attenzione delle istituzioni. Un presidio culturale che rischia di terminare la sua azione formatrice, privando i giovani di una realtà che riesce a dare a loro formazione e concrete possibilità di mettersi nel mondo del lavoro. Lo scrive attraverso una lettera indirizzata alla provincia di Salerno, al sindaco di Castellabate, al dirigente scolastico Teresa Pane, il capogruppo di opposizione Alessandro Lo Schiavo. Come si può stare fermi dinanzi all'inesorabile declino di uno storico edificio, di una scuola che ha dato tanto in termini di formazione, cultura e lavoro per Castellabate, per il cilento intero? È evidente, sottolinea Lo Schiavo, che la politica latita non vede ritorni elettorali da queste riflessioni, da questa realtà che è il Maglio di Vivo. Un appello finale che ho voluto rivolgere alle istituzioni per rappresentare lo stato di degrado e abbandono ormai cronico che vive il Maglio di Vivo di San Marco di Castellabate. Una situazione di forte precarietà che accompagna la quotidianità di questa scuola, da alcuni anni a questa parte, pregiudicandone il cammino, mettendo in discussione l'esistenza stessa di questa scuola. Da qui il mio grido d'allarme, è la mia forte preoccupazione rispetto ad una concreta possibilità di svanire un presidio di legalità, di formazione, un baluardo di sicurezza, una bussola formativa e lavorativa per i tanti giovani di Castellabate che sin dagli anni 50 ha permesso loro, fino ai giorni nostri, di formarsi e di mettersi da subito nel mondo del lavoro. La riprova di quello che dico sono i tantissimi giovani ancora oggi che trovano da subito lavoro nell'Enel, nella Team, come allievi ufficiali sulle navi mercantili, chi solca i mari di tutto il mondo sulle navi da cruciera, chi ha intrapreso una carriera militare nella Marina italiana. Altri sono docenti della stessa scuola dove hanno conseguito il diploma qualche anno prima, una rappresentazione plastica di quello che è il devivo e seppur oggi è una scuola di rango inferiore, sede coordinata, rappresenta un baluardo formativo, culturale e lavorativo di primo ordine per il Comune di Castellabate a favore dei giovani del Comune di Castellabate dando loro opzioni formative, sbocchi lavorativi di primo ordine. Tutto questo è messo in discussione dall'inerzia, dall'insensibilità, dalla latitanza della politica che forse non vede i ritorni elettorali da queste considerazioni, da queste riflessioni, da questa realtà che è il malio di vivo di Castellabate. Io nella mia lettera oltre ad appellarmi do anche una soluzione partendo da un dato economico, 180 mila euro all'incirca, che la provincia di Salerno spende per il pagamento di un fitto per un'ulteriore sede coordinata ubicata in Viale Kennedy ad Agropoli. Tutto regolare per il buon funzionamento della didattica rispetto anche a quello che rappresenta il privato. Ma tutto questo lo dico in ragione del fatto che la ragioneria ubicata in via Nitti come il malio di vivo ubicato in via Carmine Mazzarella a San Marco di Castellabate sono beni di proprietà e competenze esclusiva della provincia di Salerno. Quindi hanno in dote aule, laboratori che da subito potrebbero dare ospitalità agli alunni e al corpo docente e al personale che lavora in quella sede risparmiando e reinvestendo quelle stesse economie in manutenzione ordinaria e straordinaria sui plessi di proprietà. A San Marco si è ancora in attesa tra l'altro di un intervento di messa in sicurezza che avrebbe garantito la riapertura dell'ingresso principale. Io mi azzardo a dire che con quelle somme si potrebbe acquistare, noleggiare, istituire un servizio navetta dedicato per gli alunni di Agropoli, dei comuni limitrofi ad Agropoli, per chi arriva in treno ad Agropoli arrivare nella sede di San Marco di Castellabate. Quindi contestualmente una politica di risparmio, una politica di rilancio, una politica che darebbe ossigeno alla sede di San Marco di Castellabate.